E qualche tempo dopo incontrai a Piazza del Popolo Germi, che naturalmente era uno dei motivi per cui io facevo il cinema, lo fermai e gli dissi che avevo delle idee, che mi sarei piaciuto lavorare con lui. Allora lui mi prese in simpatia e facevo una sceneggiatura, chiamava Camorra, una bella sceneggiatura, ma in quel momento Germi era decaduto perché aveva sbagliato due o tre film e non trovava i finanziatori. Allora mi ricordai che avevo letto un bellissimo libro di uno scrittore francese, Gilbert Sesbron, i santi vanno all'inferno sui preti operai e glielo feci leggere, piacque anche a lui molto, ma doveva comprare i diritti, eravamo poveri, doveva andare a Parigi. E allora mise la sua laica, il suo orologio, il mio orologio, la mia catenina al Monte dei Pegni per avere i soldi, il biglietto per andare a Parigi. E andò a Parigi. Silvestre Sesbron gli disse guarda io non posso vendere i diritti di questo libro perché ho promesso al cardinale di Parigi, Monsignor Felten, che non avrei mai permesso di fare un film, perché la chiesa è molto preoccupata, c'era un personaggio di parroco rivoluzionario, eccetera. E allora lui tornò senza libro, eravamo senza laica, senza orologio, eccetera eccetera eccetera.